Una risposta immediata, ferma e decisa, l'allarme lanciato solo pochi giorni fa dal sindaco di Nocera Inferiore, Maglio Torquato, durante una riunione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico in Prefettura Salerno. A quella riunione era presente anche il procuratore Corrado Lembo, che mantenendo fede a quanto promesso già in quell'occasione, ha presentato questa mattina i primi provvedimenti emessi come la risposta della giustizia all'appello lanciato dal primo cittadino dell'Agro e alla richiesta di sicurezza dei cittadini. Due dei presunti autori della feroce sparatoria registrata martedì scorso in via d'Alessandro nei pressi della palestra Penta Wars, Marco Iannone e Francesco Manzo, di 33 e 31 anni, sono stati fermati grazie all'operazione condotta dalla polizia e coordinata dal sostituto procuratore dell'antimafia di Salerno, Vincenzo Senatore. A far da sfondo la spartizione delle piazze di spaccio tra differenti gruppi criminali attivi nella città di Nocere Inferiore. Si è costituito nella mattinata anche la terza persona ricercata, Mario Tortor, a 23 anni. Secondo la ricostruzione della polizia, Iannone avrebbe esploso dei colpi di pistola nei confronti di Francesco Manzo, che a sua volta avrebbe risposto all'agguato prima di fuggire a bordo di uno scooter. Ma al di là dell'episodio più recente, la direzione distrettuale antimafia indaga dal 2014 e ha fatto già intendere che presto ci saranno ulteriori e significativi sviluppi della vicenda. Un lavoro sinergico produce sempre risultati molto più incisivi. Io sono d'accordo che infatti questa indagine è stata portata avanti dalla polizia di Stato, dal commissariato di pubblica sicurezza di Nocera con la squadra mobile. E come diceva il procuratore, però c'è anche un lavoro a monte dell'arma dei carabinieri, cui va il mio applauso per l'attività che stanno svolgendo e che svolgeranno. Questo tra l'altro è solo un primo passo, le indagini continuano, è stato chiaro, no? Certamente, il procuratore penso che sia stato chiaro. I profili che però attengono al mio ruolo sono i profili della sicurezza pubblica. Io, come il prefetto, noi guardiamo alla vivibilità di un territorio, guardiamo alla tranquillità, all'ordine pubblico. E questi fatti che sono accaduti in questo recente passato ovviamente avevano preoccupato non soltanto noi, ma ovviamente il sindaco di Nocera, che aveva chiesto la convocazione del comitato, poi fatta dal prefetto, e nella quale appunto si è discusso. E in questo comitato il sindaco aveva espresso le sue più vive preoccupazioni per quello che stava accadendo nel territorio. Ovviamente in quella sede il procuratore della Repubblica presente aveva già dato la sua ampia disponibilità e aveva detto che ci sarebbero state delle risposte immediate, risposte che effettivamente poi sono state date nella giornata di ieri con l'esecuzione di tre decreti di fermo emessi dal pubblico ministero per una serie di reati indicati nello stesso provvedimento. Grazie a tutti.